Eri, buon salve gente, come sempre io sono T-Shark e come sempre sono ritornato con un video su questo bello canale e oggi, come vi avevo già anticipato e promesso ieri, sono ritornato con un beatbox tutorial vi volevo innanzitutto ringraziare per aver apprezzato il video di ieri perché, come ho già scritto nei commenti del video di ieri a Gajil sto cercando sempre di portare qualcosa di nuovo al canale per non fare sempre le stesse cose, per spezzare un attimo, tra virgolette, il ritmo del canale portare anche qualche novità, vedere cosa potrebbe anche piacere a parte il beatbox e ho visto che comunque il video di ieri vi è piaciuto doveva uscire qualche ora prima il problema è che sono arrivato più o meno a metà del video e mi è andato tutto a puttane, il computer si è spento mi è toccato riaccenderlo, ricominciare tutto da capo e montare un video del genere è un cazzo di casino e porta via un paio d'ore, un po' di fatica comunque adesso ho capito più o meno come fare per farlo oddio, non bene perché sinceramente non è che mi piaccia più di tanto il video di ieri però comunque fare qualcosa di decente più o meno oggi ragazzi sono ritornato con un nuovo beatbox tutorial una nuova combo che è più o meno come una delle ultime che abbiamo imparato quella sulla canzone di Snoop Dogg questa volta vi voglio insegnare la famosa canzone che avevo anticipato in quel video di Justin Timberlake che si intitola Mirrors andatela anche ad ascoltare per capire un attimo meglio questo beat e per l'appunto questa canzone come base, come ritmo di base ha il beatbox, non è che è proprio un ritmo sul quale si può fare beatbox perché è facile no no, è proprio beatbox, il ritmo è il seguente cioè il beat è molto semplice come ritmo perché usa pochi suoni, è abbastanza regolare poi come sempre voi lo potete fare lento, veloce, medio, metterci altri suoni dentro velocizzarlo, modificarlo a vostro piacimento insomma e come ho già detto prima per capire un attimo meglio com'è sto ritmo andatevi a cercare la canzone vi lascerò magari il titolo della canzone in descrizione ve l'andate a cercare su youtube è anche abbastanza bella come canzone l'unico problema delle canzoni di Justin Timberlake è che durano tipo sette minuti l'una il problema secondo me è che è troppo ripetitivo come beat perché per sette minuti non mi puoi continuare a fare cioè mi cascano le palle a far sempre sullo stesso ritmo potevano aggiungere qualcosa la canzone è davvero bellissima perché le canzoni di Justin Timberlake personalmente mi piacciono però se avessero un attimo diciamo variato i suoni del beat durante la canzone secondo me sarebbe venuto anche meglio però azi sui questa maglietta che come sempre vuole ma io la metto così così dovrebbe stare una cazzo di maglietta o lei si mette così o così o così cioè porca puttana così olle mi girano i coglioni anche perché ragazzi si fa caldo fa veramente caldissimo io sto sudando male a me stanno sudando i baffi e a me quando sudano i baffi vuol dire che fa veramente caldo e anche perché non posso accendere il ventilatore tipo qua dietro però non lo posso accendere dai che sembra quello del video di ieri molto probabilmente molto probabilmente non lo posso accendere perché se no non sentireste un cazzo allora vi rifaccio un attimo il ritmo e magari provo anche a modificarlo un poco un pochino ecco vedete come anche una variazione veramente piccola può cambiare l'intero beat perché quella originale quella che ho fatto io se riesco a rifarla non mi viene più come prima perché io ho una memoria a breve termine che fa ugak ugaz proprio ugak ugaz sono termini veramente studiati che si studiano anche a scuola e voi questo ritmo io vi consiglio vivamente di prenderlo e modificarlo perché vi assicuro al 95% che dopo 5 minuti che lo fate vi rompete il cazzo e non lo fate più per giorni ve lo dico per esperienza personale e niente ragazzi questo era il beatbox tutorial sulla canzone di Justin Timberlake ho ripetuto più volte Justin Timberlake che T-Shark e cose inerenti al beatbox però va bene spero che il video ragazzi vi sia piaciuto se non è così lasciate un dislike non sto scherzando lasciate comunque un like spero comunque che vi sia veramente piaciuto ragazzi questo video perché io in ogni video ci metto davvero impegno mi faccio un culo così perché anche oggi ho rischiato di non portarvi il video sinceramente perché sono tornato a tipo mezzogiorno e mezzo da lavoro che lavoro dalle 6 e mezza di mattina mezzogiorno e mezzo ho mangiato tranquillamente mi sono buttato a letto ho detto sto un'oretta a letto verso le 2 2 e mezza mi metto a fare il video così verso le 4 i ragazzi già ce l'hanno bello su youtube si ci poteva anche stare se non fosse per il fatto che mi sono addormentato e mi sono svegliato tipo 20 minuti fa e sono ancora rincoglionito dal sonno e a parte gli schizzi così che mi vengono niente spero che il video vi sia piaciuto ragazzi volevo fare un paio di saluti perché questi ultimi giorni anzi l'ultima settimana anzi proprio negli ultimi tempi non sono più riuscito a uscire di casa la mia vita sociale sta andando a puttane e vorrei salutare un attimo i miei amici la mia cumpa di Uderzo tipo Pier tipo Eli tipo Murt tipo Panta tipo tutta la cumpa bella di Uderzo e vorrei salutare anche la Nana ciao Nana sai che sto parlando di te Nana e volevo salutare anche lei volevo salutare Gahiel che ieri ha commentato e mi ha detto che lui vorrebbe che facesse altre reaction ai video magari di beatbox overpower che non so perché ma questo overpower mi piace come come parola e lo userò molto overpower in tutti i video che farò da adesso in poi overpower sarà la parola d'ordine ragazzi quindi ragazzi come al solito se non siete ancora iscritti andate subitissimo a cliccare a iscrivervi perché dà un bello questo uazzo un clic siete iscritti e mettete like mettete dislike commentate andatevi a vedere il video di sto tizio bello che fa canzoni belle e seguitevi un attimo il beatbox e niente noi ci rivediamo al prossimo video di sto tizio bello